Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziero parlando della crisi finanziaria del Comune. È stato approvato finalmente lo schema del rendiconto 2021, un atto fondamentale per arrivare ai correttivi richiesti alla Corte dei Conti, adesso dovrà arrivare in Consiglio Comunale. I particolari in questo servizio. Gli ultimi dettagli sono stati affrontati anche rispetto al capitolo delle passività potenziali. Il voto di giunta per il rendiconto è arrivato nella serata di giovedì. Il sindaco Lucio Greco, gli assessori, i revisori, il segretario generale e tutti i tecnici, sono rimasti fino a tardasera in municipio. È stata l'ennesima tappa di un lavoro assai complesso, reso ancora più arduo dalla crisi finanziaria dell'ente e dalla necessità di rispettare tempistiche imposte dalla Corte dei Conti anche per i correttivi. Il via libera da parte dell'amministrazione comunale è stato concretizzato. Inizialmente si era pensato ad un voto da spostare ad inizio della prossima settimana. Invece le attività sono proseguite fino a sera e la giunta si è espressa. Il passaggio del rendiconto 2021 è essenziale per definire il disavanzo del municipio e predisporre un piano di riequilibrio che sembra al momento la soluzione più a portata di mano per evitare il dissesto. La Corte dei Conti, come ha più volte ricordato il segretario generale Carolina Ferro, guarda con molta attenzione alla tenuta finanziaria dell'ente e non solo come è dimostrato dalla bocciatura del sistema dei controlli interni che va rivisto. Per chiudere il rendiconto è stato necessario rapportarsi di continuo con i revisori che anche nelle ore precedenti all'approvazione hanno indicato l'esigenza di avere riscontri precisi sulla voce delle passività potenziali. Lo strumento finanziario ora vede definitivamente la luce e passa al Consiglio Comunale. È stata approvata anche la relazione allegata al rendiconto. Parliamo adesso di servizio rifiuti. Il cerchio delle nuove assunzioni tra le fila di impianti SRR che gestisce il nuovo servizio rifiuti in house è stato chiuso. In totale sono 133 gli operai che passano tra le fila della società in house per i cantieri dell'ambito, oltre a quelli della piattaforma di Timpazzo. Un passaggio che però i rappresentanti sindacali dell'USB ritengono debba essere approfondito a partire proprio dai riferimenti normativi adottati. Vediamo. In pianti SRR l'in house che gestisce il nuovo servizio rifiuti nei comuni dell'ambito ha di fatto chiuso la procedura di passaggio dell'intero personale nei comuni dove già svolge l'attività. Sono 133 i lavoratori che hanno sottoscritto i contratti attraverso la clausola sociale, intese che i rappresentanti sindacali dell'USB ritengono però debbano essere approfondite, a partire proprio dai riferimenti normativi adottati. Anche le procedure di conciliazione condotte non convincono. Il segretario provinciale dell'USB, Luca Faraci, attraverso una diffida prodotta al legale Livio Eliotta, ha scritto proprio impianti alla SRR4 e a tutti gli organi competenti. Viene messa in dubbio la base normativa che ha condotto a attivare la clausola sociale per l'assorbimento diretto dei lavoratori del servizio rifiuti. Viene contestata soprattutto l'applicazione del codice degli appalti, nonostante lo stesso codice esclude di fatto l'applicazione della disciplina alle società in house. Non si doveva prevedere un codice d'appalti perché? Perché la impianti è una società in house, quindi la società in house non prevede il codice degli appalti, anche perché non c'è stata né una procedura di concorrenza, non c'è stata diciamo nessuna procedura per quanto riguarda che poteva essere affidato tramite un appalto. è stato un affidamento diretto da parte dell'SRR. Quindi non vedo il motivo perché si debba prendere il codice degli appalti in quanto noi abbiamo un contratto collettivo nazionale, articolo 6, che garantisce e tutela tutti i diritti maturati e tutte le previsioni futuristiche che possa avere un lavoratore. Quindi io non vedo il motivo perché si ribadisce che noi siamo contrari, noi non siamo contrari, anzi vogliamo la tutela di questi 133 operatori che venga garantita nel futuro. L'USB evidenzia tra l'altro come gli stessi operatori al momento del transito di azienda abbiano perso diversi diritti acquisiti così come già capitato altre volte in passato. Facendo delle dimissioni volontarie, poi più di una dimissione volontaria perché comunque questi ragazzi transitavano da aziende appaltatrici al TMB, alla discarica di impazzo, poi è subentrata la impianti SRR. Hanno fatto delle procedure di licenziamenti volontari, quindi dimissioni volontarie tramite trattative conciliative sono state nuovamente assunti, quindi il pregresso si è tagliato con una nuova assunzione, quindi è normale che hanno perso comunque parecchi di loro anche l'articolo 18, hanno perso tanti diritti che comunque poteva essere, come si dice, trasferito da azienda ad azienda senza perdere tutti questi diritti. Tutte ragioni che hanno indotto il segretario Farage chiedere ai impianti SRR di revocare o rettificare in autotutela la determina che in caso contrario potrebbe essere impugnata in sede legale. Queste persone dovevano essere garantite in un futuro, cioè sono stati invece, vabbè per ora tu lavori, poi fra due anni non vi preoccupate che non succede nulla e chi ce la dà la garanzia, così a parole? Invece bisognava mettere per iscritto tutto e garantire ufficialmente al centro per l'impiego che c'è un terzo che sarebbe il direttore del centro dell'impiego che comunque faceva rispettare e tutelava i diritti maturati di questi lavoratori. Restiamo in ambito rifiuti perché impianti SRR e la società in house entro ottobre prenderà in consegna il servizio rifiuti locale e il manager di impianti Giovanna Picone e i responsabili tecnici della società stanno ultimando delle attività preliminari prima dello start ufficiale del servizio in città che dovrebbe partire intorno ad ottobre. È stato definito l'accordo per l'acquisizione delle isole ecologiche mobili informatizzate, saranno collocate in diverse zone della città anche per cercare di limitare al massimo l'abbandono dei rifiuti. Sono sei quelle acquistate attraverso un affidamento con offerta individuata dal sistema MEPA, il totale di 139 mila euro, le sei isole ecologiche mobili hanno ciascuna quattro diverse postazioni di conferimento contemporaneo. L'acquisizione rientra in un progetto più ampio che impianti vuole attuare per la città che è quella più grande di tutto l'ambito della gestione in house. Ancora parliamo di ambiente e decoro urbano con l'aumento delle temperature e il rischio di roghi in città sale soprattutto a ridosso dei grandi terreni lasciati all'incuria e all'abbandono. Né un esempio lo spazio che si trova tra la via Venezia e la via Recanati che ogni anno vede la nascita di improvvisi e pericolosi roghi che rischiano di danneggiare anche le abitazioni e i residenti protestano. Vediamo. Questo terreno che si trova tra la via Venezia e la via Recanati è stato completamente abbandonato dall'amministrazione che non provvede alla pulizia da diverso tempo. Con l'avvicinarsi dell'estate e l'aumento delle temperature il rischio di incendio è sempre più grande. Tra i residenti della zona, chi ha la possibilità pulisce davanti l'uscio di casa in autonomia. Io mi faccio quello che mi competo e buonanotte. Gli altri si arrangiano. Ok, grazie. Hai capito? Non è che non possiamo fare niente. Perché non interviene, non sa solo mandare molte avvisi a casa per fare le varie serbacce, però è per evitare. Però hanno conto che una volta venivano con la paracaricatrice e una volta l'anno. Ora invece ci pensano quanto sono emergenze. Prende fuoco, fanno danno ai palazzi, alle macchie se ci sono macchie e poi intervengono. Per i residenti è reso invivibile anche dalla presenza dei diversi moscerini, zanzari e animaletti che costringono a tenere le aperture di casa sempre ben sigillate. I zanzari qua ci stanno mangiando tutti perché non si può sopportare, lasciare la terra così sporca perché noi non ne potiamo più. Allora arrivato a questo punto devono pulire, se non devono pulire lo brucio io, bello chiaro e tonto va. Ma è pericoloso? Non mi interessa che è pericoloso, non mi interessa. È pericoloso anche per la mia casa, non è che è pericoloso soltanto per le... È pericoloso per tutti. Cosa dobbiamo farlo? O lo puliscono o lo puliscono. Io non lo posso far pulire, ma... Un appello... È un appello che vogliamo fare all'amministrazione, al sindaco, a tutti. È quale sindaco? Il sindaco se ne sta a casa, il sindaco non va niente più. Manca monnizia, ma io non lo voglio stamattina, stanotte. Il sindaco se ne sta a casa sua e non va niente. Alcuni commercianti della zona, sempre tra i primi a chiamare soccorsi quando scoppia un ingentio, si chiedono perché l'amministrazione continua a lasciare le cose in questo stato. L'area potrebbe essere bonificata e resa fruibile a tutti gli abitanti del quartiere. Qualcuno propone anche la creazione di un parco giochi per i tanti ragazzi della zona. Ci sono qua topi, tanti animali che giustamente non va bene questa situazione. Tra l'altro adesso che si alzano le temperature, il rischio di ingento si alza. Esattissimo, anche questo è un pericolo perché ogni anno lo faccio io, a spese miele. Però effettivamente il comune che cosa fa? Deve, deve gentilmente occuparsi di venire a pulire sia il sindaco e sia tutta la giunta comunale. Che mi sembra qua, chi sale e sale, mi sembra che sono tutti uguali. Questo è il discorso di Gela. Sembra che devo andare a migliorare, invece va sempre a perdere. Siamo i primi a soccorrere, chiamare subito i vigili del fuoco e farlo spegnere perché qui ci sono tanti bambini che vengono a giocare con il pallone e a divertirsi, invece subito devono scappare via perché prende tutto a fuoco. E voglio che il sindaco si impegni a far pulire qua sempre tutti gli anni e fare parchi giochi per i bambini. Uno sguardo alla politica si dichiarano civici e pronti al dialogo con tutti. E' stato ufficialmente presentato il Movimento Civico tutti insieme all'iniziativa. C'erano anche diversi esponenti dei partiti e c'eravamo anche noi. Vediamo. Civici ma con l'ambizione di poter dare alla città un contributo anche a livello di governo municipale. Giovedì sera, ufficialmente aperto i battenti, la sede del Movimento Tutti Insieme in pieno centro storico. I fondatori, a partire dal Presidente Alessandro Vella, dal segretario Antonino Cocchiaro e da uno dei componenti del Consiglio Direttivo Salvatore Terlati, hanno voluto rimarcare che l'interesse prioritario va alla città e alla necessità di coinvolgere chi quotidianamente si imbatte in disservizie in un contesto urbano che va migliorato. Si parte dalle piccole cose che poi sono quelle che i cittadini chiedono. Così è stato riferito. L'avvocato Vella ha ribadito il concetto parlando di motivazione che deve spingere ad immaginare una città diversa. Non verranno date false aspettative. Questo è stato uno degli impegni posti. Terlati invece ha ricordato la sua lunga esperienza di politica sociale nei quartieri e in maniera netta ha sottolineato le distanze dall'attuale amministrazione comunale. Gli esponenti di Tutti Insieme vogliono dimostrare che i cittadini scendendo in campo possono anche governare. Lo ha detto proprio Terlati. Ha anche riferito che l'attuale amministrazione comunale si fa prestare i soldi da Eni per cercare di riqualificare, mentre in oltre quattro anni non ha fatto nulla se non dare incarichi ai professionisti. Il Movimento invece vuole una città che sia finalmente a misura di bambino e di disabile. Proprio sui temi della disabilità si è soffermato uno degli ospiti, l'imprenditore Angelo Ferrara, lui stesso diversamente abile, che la prossima settimana presenterà una start-up finalizzata a garantire l'uso di mezzi di trasporto ai disabili. Il vice di Vella e l'imprenditore Vito Fraglique nel consiglio direttivo ci sono Angelo Nardo e Gaetano Faraci, Vincenzo Averna e il tesoriere. Tutti hanno premuto sul tasto del dialogo senza preconcetti politici. La parola l'ha presa il coordinatore cittadino di Fratelli Italia Salvatore Scuvera, che a sua volta si è detto disponibile al confronto pur essendo uomo di partito. Alla presentazione del Movimento si è visto inoltre il consigliere comunale melognano Salvatore Scerra. Un intervento l'ha fatto l'avvocato Giuseppe D'Aleo, che dopo l'esperienza da esperto del sindaco greco, aderito a Gera Prima di Tutto, federata con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. C'erano l'ex consigliere comunale, inoltre Enrico Vella e il medico Gianni Incardona, che ha militato nel centrodestra cittadino e che ha invitato comunque il movimento ad andare avanti anche senza cercare alleanze. Nello scacchiere civico si colloca adesso proprio tutti insieme che probabilmente punterà ad attirare non solo i cittadini ma anche eventuali esponenti che intendano creare ponti di dialogo con i partiti o con altri gruppi fuori dalla nomenclatura dei simboli. Sembra piuttosto evidente invece che l'approccio sia alternativo a quello dell'attuale amministrazione greco. Non dovrà pagare la sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale anti-covid rivolto alla fascia over 50. Il giudice di pace locale ha accolto il ricorso presentato dal legale di una donna che durante la vigenza dell'obbligo vaccinale non diede alcun seguito per ragioni di salute. Ad una prima comunicazione inviata l'eseguì l'avviso di addebito per il pagamento della sanzione in denaro. La donna multata ha però voluto impugnare il provvedimento sicura di provare che non avrebbe potuto adempiere a quanto imposto dal Ministero. L'avvocato Francesco Granvillano, che la rappresenta, ha riportato le ragioni per le quali ha escluso la fondatezza della multa irrogata. Ha analizzato il concetto di obbligo vaccinale mettendolo in discussione, elementi che hanno convinto il giudice di pace civile che in una propria decisione ha annullato la sanzione. Parliamo della Gelas. I tempi per il nuovo contratto Gelas non sono affatto certi. È probabile che si proceda con ulteriori proroghe anche in attesa che si definisca la situazione finanziaria del municipio. L'amministratore della municipalizzata Pietro Inferrere intanto conferma l'obiettivo del contratto e non esclude di lasciare l'incarico qualora dovesse arrivare la firma. Vediamo. L'approvazione del rendiconto 2021 varato dall'Aggiunta dovrebbe fare da sprone nella catena degli atti finanziari ponendo le basi per il piano di riequilibrio volto ad evitare il dissesto del municipio. Le scadenze sono imminenti e non mancano i punti interrogativi. Tra questi sicuramente va annoverato il nuovo contratto della Multiservizi Gelas. La società condotta dall'amministratore Pietro Inferrere sta andando avanti con proroghe tecniche. Quella in corso scadrà a fine mese. Le condizioni per un contratto pluriennale al momento non sembrano esserci. La crisi finanziaria del municipio ha assorbito risorse e personale. Il contratto della società in house potrebbe garantirle una programmazione a lungo termine. La cosa certa è che per ora non ci sono le condizioni per il nuovo contratto, lo spiega proprio l'amministratore Inferrera. Continua ad attendere che sia l'amministrazione comunale a convocarlo per iniziare a discutere proprio del contratto. In questa fase si andrà avanti ancora in proroga. Fino a quando non ci saranno indicazioni precise dalla Corte dei Conti, secondo Inferrera, il contratto non verrà stilato. La proroga a questo punto potrebbe mantenersi anche fino a conclusione dell'anno. Inferrera, nominato al primo cittadino a ormai come obiettivo proprio il contratto, significherebbe, secondo il manager, dare a Ghella su un livello superiore. Spiega inoltre di comprendere le difficoltà che sta attraversando l'amministrazione. Se in ogni caso dovesse arrivare il contratto entro fine anno, proprio Inferrera potrebbe decidere di presentare le dimissioni. Sarà poi l'amministrazione a valutare se accettarle o meno. Il prossimo anno ci sarà la scadenza elettorale per le amministrative e il manager non si sente addentro a quelli che sono appunto i meccanismi partitici e alla campagna elettorale. Nessuno ha mai nascosto che il posto di amministratore dell'In House sia uno dei punti forti del sottogoverno municipale. Inferrera lo sa bene e con un'eventuale approvazione del nuovo contratto nel rapporto con il comune potrebbe considerare concluso il suo mandato. Sono comunque valutazioni che farà. La flessione d'inizio anno è stata superata con lo sblocco delle somme dovute dal municipio, destinata a coprire i pagamenti dei dipendenti della società. Il bilancio è stato approvato, l'eseguità del personale e l'impossibilità di procedere con nuove assunzioni rendono comunque difficile assicurare i servizi affidati alla municipalizzata. Sul nodo del contratto la Commissione Sviluppo Economico ha formalizzato un'interrogazione che sarà esposta durante la prossima seduta di Question Time. I giovani di Generazione Gela hanno donato alla città un pesce mangiaplastica, una struttura in ferro destinata esclusivamente alla raccolta della plastica che verrà periodicamente svuotata e smaltita adeguatamente. La scultura è stata posizionata tra i due campetti del playground proprio accanto alla Porta della Pace in occasione della scorsa giornata dell'arte che si è svolta il primo giugno, ma stamattina all'interno sono già stati trovati rifiuti altro genere e purtroppo la struttura è stata anche danneggiata. Vediamo. Sono passati solo due giorni da quando la struttura del pesce mangiaplastica è stata posizionata tra i due campetti del playground proprio accanto alla Porta della Pace, ma stamattina sono stati riscontrati i primi danni seppur di piccola entità. Inoltre all'interno del pesce che dovrebbe servire per la raccolta della plastica al fine di agevolarne lo smaltimento sono stati trovati rifiuti di altro genere. Speriamo sia solo disattenzione, anche se quando si inizia a vedere di velto parte del pesce si capisce che è proprio un'attitudine di qualcuno alla distruzione. Il pesce è fatto per raccogliere plastica e metalli, come se avessimo un contenitore permanente appunto della raccolta plastica. Non va conferita la carta, non vanno conferiti rifiuti di altro tipo, mozziconi di sigaretta, quant'altro non appartiene appunto a questa tipologia di rifiuti. Ci sono i cestini qui intorno, ripeto, c'è la possibilità di conferire correttamente tutti i rifiuti che abbiamo. Dieci anni che a Gela si fa la differenziata, potremmo avere imparato come farla e confidiamo che da questo momento in poi ci sarà più attenzione da pasta dei fruitori del playground. Plastic Free è un tema caro a tutte le generazioni sensibili alla tutela dell'ambiente. La struttura in ferro, a forma di pesce, è stata realizzata gratuitamente da Blue Omnia SRL. I pesci Mangia Plastica stanno diventando il simbolo della tutela dell'ambiente in tutta Italia. La presenza in diverse città di queste sculture è uno stimolo per la cittadinanza a mantenere pulito il nostro territorio. Non si tratta di un cassonetto struttura dove conferire rifiuti, ma un contenitore dove andrà destinata solo ed esclusivamente la plastica, che verrà periodicamente raccolta e differenziata. Noi di Generazione Gela abbiamo voluto donare alla città questa opera in ferro realizzata dall'azienda Blue Omnia SRL a titolo gratuito per sensibilizzare la città sul tema dell'ecosostenibilità. Ci auguriamo che tutti conferiscono solo materiale plastico e lattine perché nasce per questo e che l'amministrazione ci aiuti nello svuotamento settimanale. Il tema della plastica è un tema veramente importante. Basti pensare che la quantità di plastica negli oceani e nei mari ammonta a 8 miliardi di tonnellate, quindi è un tema serio che va affrontato. Un nostro obiettivo a breve e medio termine è quello di realizzare altre strutture come queste per distribuirle sul litorale gelese, includendo anche Manfria, perché notiamo che anche lì c'è una quantità di plastica che va attenzionata. Abbiamo notato con dispiacere stamattina che c'è altri tipi di rifiuti e non va bene perché ricordiamo che deve essere conferito solo plastica e lattine. I ragazzi di Generazione Gela si augurano non solo che la cittadinanza sia sensibile a questo tema e che collabori con il corretto mantenimento della scultura, ma che anche il Comune, attraverso il servizio di raccolta differenziata, ne monitori il funzionamento e provveda svuotare la scultura quando sarà necessario. Un'ultima notizia di sport. Prima di chiudere, direttamente dal Golden Gala Pietro Mennea di Firenze, arriva un altro importante traguardo per Salvo Bianca. Il giovane gelese si è infatti classificato al primo posto nei 100 metri tappa mondiale Diamond League con un tempo di 11.70. Distacco rispetto al secondo classificato di ben 0,34 centesimi in più e più di un secondo rispetto all'ultimo arrivato. Meno di un mese fa Bianca aveva già infranto il record italiano nel salto in alto con un metro e 64 centimetri raggiunti con l'antrapos Civitanova. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Siamo in chiusura. Naturalmente, se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidiano.it. Se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi, li trovate sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. Per il momento è tutto. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni in meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti.